Buonasera a tutti, questo è il quarto giorno della Commission Narcotic Drug a Vienna. Siamo con Susanna Ronconi che rappresenta Forum Drogue qui a Vienna ma anche nel Comitato della Società Civile dell'Unione Europea. A lei chiediamo un commento su questa giornata, su queste prime quattro giornate di meeting viennese. Intanto parlerei di nuovo di cannabis, non si può non parlarne, nel senso che è un argomento direi pervasivo in questo appuntamento viennese. Come sappiamo la discussione sulla raccomandazione dell'OMS sull'uso medico della canapa è stata rinviata a dicembre perché il dibattito è ancora aperto e ancora conflittuale tra i vari governi, però di cannabis si è parlato comunque anche nella sessione plenaria perché in ogni caso pur decidendo di posticipare i vari stati hanno preso parola su questo. Quindi anche nella plenaria di ieri è stato evidente che il fronte è ancora fortemente diviso, c'è una parte di stati che sono a favore e avrebbero voluto votare già in questi giorni, la raccomandazione positivamente approvandola, mentre un'altra serie di governi sono invece contrari, quindi con la leadership russa, ma ci sono soprattutto molti governi asiatici e anche una parte di governi africani che sono contrari. Quindi la CND ha preso tempo, ha chiesto tempo per poter discutere ulteriormente e arrivare alla decisione di dicembre. Devo dire in maniera un po' pessimistica che oggi c'è stato un incontro informale tra le associazioni della società civile e la CND e il direttore della CND ha detto che la data di dicembre è stabilita, che lui farà di tutto perché questa discussione avvenga, ma non ne ha la certezza, quindi la questione è ancora aperta. Va detto che anche nella plenaria di ieri si è capito che la posizione contro la raccomandazione dell'OMS è una posizione ideologica, nel senso che nessuno degli interventi e degli stati contrari è stato finalizzato a contestare le evidenze scientifiche portate dall'OMS. Del resto sarebbe difficile per un contesto politico contraddire le evidenze scientifiche portate da un'agenzia scientifica, ma il ragionamento è sul possibile, viene usato il termine del possibile impatto sociale di questa misura, che significa la paura che questa possa aprire la strada a una legalizzazione invece dell'uso ricreativo della canapa. Il timore è questo e questo sarà l'argomento forte. Viene usato questo termine di impatto sociale, che è strano in questo contesto, perché se fosse davvero importante l'impatto sociale allora dovremmo discutere anche dell'impianto proibizionista, mentre di quello non si discute, ma dell'impatto sociale della raccomandazione dell'OMS si discute. Ci sono anche delle contestazioni su il punto della raccomandazione che propone, diciamo su quella che noi per capire c'è la canapa light, perché alcuni dicono ma poi non siamo sicuri di misurare la percentuale di THC, quindi questa cosa rischia di sfuggirci di mano, eccetera, che sono appunto tutte preoccupazioni a cui una buona regolazione potrebbe invece dare risposta. Mi sembra importante, e questo può coinvolgere anche noi italiani, sottolineare che la CND aprirà alle associazioni della società civile una serie di audizioni attorno a settembre, quindi prima di questa decisione. Io penso che noi italiani dovremmo proporre di essere auditi, perché siccome una delle preoccupazioni principali è appunto quella dell'uso improprio della canapa medica, io penso che il nostro sistema di canapa medica possa insegnare molto, nel senso che noi siamo critici, noi sappiamo che noi abbiamo molte cose da migliorare rispetto a questo, però abbiamo anche un buon sistema che può tranquillizzare coloro che hanno paura di questo uso improprio, perché da noi la canapa medica è usata dentro il sistema sanitario nazionale, è molto regolamentata, ha un sistema di prescrizione molto chiaro, e quindi io penso che se noi portiamo la buona pratica del sistema italiano, questo possa essere importante. Credo che sia un'opportunità per noi, dovremo farlo. Si è parlato anche di decriminalizzazione, in particolare gli NCB e 1DC hanno voluto chiarire qual è la loro interpretazione delle convenzioni internazionali rispetto in particolare ai crimini minori e al consumo personale. Si discute molto di questo, intanto devo dire che ieri c'è stato un side event promosso tra l'altro da una serie di agenzie dell'ONU, che sono Unites, UNDP, quindi delle agenzie, quelle non specificamente preposte alle droghe, ma che hanno a che fare con le politiche delle droghe, e la decriminalizzazione è stata esplicitamente la proposta politica portata da queste agenzie, dicendo che tutti i problemi che ci sono di salute, di difficoltà di accesso ai servizi, di non rispetto dei diritti umani e di produzione continua di stigma sulle persone che usano sostanze, fondamentalmente tutto ciò viene dalla criminalizzazione. Quindi è stata detta una parola chiara anche a livello istituzionale in favore delle decriminalizzazioni e delle condotte che hanno a che fare con l'uso personale. Credo che questo sia importante, perché noi associazioni lo diciamo da sempre, che lo dicano le agenzie ONU è importante. Ricordo anche che 31 agenzie ONU, compreso la UNODC, quindi l'agenzia che si occupa specificamente di droghe e crimine, hanno siglato un documento, una common position, si chiama, un documento comune piuttosto avanzato rispetto alle posizioni tradizionali dell'ONU, in cui la decriminalizzazione, soprattutto delle condotte minori, è all'ordine del giorno. Quindi anche per noi questo è uno strumento, credo, importante. Questo documento lo trovate sul sito di fuori luogo, è linkato poi nella descrizione di questo video. L'ultima cosa, stamattina Forum Droghe, insieme a Associazione Luca Coscioni, Società della Ragione e Transnational Institute e ICIRS, ha presentato un side event qui a Vienna, troverete il video nelle prossime ore sul sito di fuori luogo. Susanna ha presentato tutto lo studio fatto da Forum Droghe rispetto all'autoregolazione e al consumo di cannabis, due parole per chiudere. Ma intanto, insomma, un po' di soddisfazione, gratifichiamoci un po', nel senso che c'era stata assegnata una stanza non molto ampia e invece, insomma, questa stanza era affollata, c'è stato molto interesse. Io credo che questo discorso su come stanno insieme processi di legalizzazione della produzione e dell'offerta di canapa, e della vendita di canapa, con processi di autoregolazione a livello sociale, quindi come sta insieme regolarizzare la produzione e governare con un approccio sociale e culturale il consumo di canapa, questo tema è all'ordine del giorno, credo, e la ricerca, soprattutto la ricerca qualitativa sull'autoregolazione e sul consumo controllato, può dare e può insegnare molto anche alle politiche sulle droghe. Quindi mi sembra che il nostro evento di stamattina sia stato accolto con interesse da molti, proprio con questa specificità. Grazie mille a Susanna, grazie a voi per l'attenzione, ci vediamo domani. Grazie mille a tutti.